... Sindaco, si sono riaccesi i riflettori sulla questione dell'aggiunta incompleta in attesa di questo Assessore alle politiche sociali che deve essere nominato, quantomeno consigliato dal Partito Socialista. C'è stato un qui pro quo sul nome che era uscito, è stata presa tra virgolette una garofalo per un'altra. Cosa vuol dirci la in merito? Allora, noi abbiamo un'aggiunta intanto assolutamente operativa con cinque elementi più il Sindaco che sta svolgendo le sue funzioni direi egregiamente. Il Partito Socialista, neocostituito a Cava di Tirreni, sta facendo un lavoro molto serio di sostegno all'amministrazione. Aveva indicato tempo fa l'Assessore Trapanese come sua rappresentante in giunta. Poi l'Assessore Trapanese, dopo alterne vicende legate al nuovo piano di insediamento scolastico, eccetera, eccetera, per ragioni personali ha dato le dimissioni alcuni mesi fa. E quindi il Partito Socialista si sta attrezzando per portarmi una rosa di nome che abbia queste caratteristiche, cioè che sia una professionista brillante della nostra società, donna, perché dobbiamo mantenere questo equilibrio. Ecco, quindi arrivare a immaginare un'Anna Maria Garofalo, ovviamente, si è rivelato poi una notizia farsa, però intanto ci dicono che una Garofalo c'è. Ma io non so chi vi dice queste notizie, in verità, però capisco che c'è il, come dire, il chiacchiericcio, eccetera, eccetera. Il gruppo socialista mi ha presentato una rosa di nomi, come giusto che sia. Io ho fatto già una valutazione che, diciamo, nell'ambito di questa rosa di chi può essere, ho già incontrato la persona che potenzialmente può essere l'assessore e tuttavia mi sono riservato di fare delle valutazioni ulteriori, delle decisioni, o entro fine anno, o nell'ambito di una valutazione più complessiva di carattere politico, perché avremo ancora un altro assessore da nominale, dicevo 7 su 5, di fare tutto insieme.